Alla vigilia del voto vige come al solito il silenzio elettorale, ma la notte è anche dei vandali e di chi si diverte a camuffare manifesti elettorali apposti negli appositi spazi assegnati. E' accaduto questa notte a Sulmona, a campagna elettorale ormai chiusa, scritte sui manifesti e volti dei candidati camuffati con vernice spray. In Viale Mazzini, a due passi da Porta Napoli, i manifesti danneggiati sono quelli che appartengono a diverse forze politiche, il che non lascia pensare a un attacco mirato. Una scena simile si trova anche sulla circonvallazione occidentale. Il caso è stato segnalato anche al commissariato locale in Viale Sallustio e in tanti, soprattutto sui social, stanno condannando simili gesti che non possono essere tollerati alla vigilia dell'appuntamento elettorale. E' stata una campagna elettorale 2.0, con la propaganda che è stata fatta maggiormente sui social, a colpi di dirette su Facebook e di foto postate su Instagram dell'ultimo comizio. A Sulmona, come aveva rilevato da DG nelle scorse settimane, i manifesti sono arrivati in ritardo rispetto alla tabella di marcia, eccezion fatta di alcune forze politiche che hanno scelto da subito anche la forma di propaganda tradizionale. Grazie. Grazie.